Siete pronti per sentire il meglio della nuova scena? The time has come! VIVA! ROSE FINER! GIONIER! In palio ci sono 100.000 euro. Siamo tornati nelle città in cui abbiamo iniziato. È il sogno che ho da quando sono ricassino, da quando sono nato. Il rap parla di dolore, può parlare di strada. Metto il beat, alziamo il microfono e rappo. Ok, let's go. Ci siamo fatti aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano. Con chi passa ci rivedremo a Milano per le fasi finali. Faremi un po' di casino! Per vedere se tu emergi. Senza pietà. Dovrete realizzare un videoclip. Questa è la vostra ultima possibilità, Wagner. Ma perdere non è l'opzione. Hai spaccato tutto. Ti è bloccato completamente. Posso dire una cosa? No, hai già arrestato. Questa bro è una gara. Questa è la nuova scena. Questa è la nuova scena. Questa è la nuova scena. Questa è un importante partezo che non st Resources causing